Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Facciamo alternativamente la spesa, siccome abitiamo insieme a Roma... Infatti l'ho peccato, sai perché? Perché facciamo alternativamente la spesa, non vuol dire che a faccio io poi. Donzelli e Del Mastro, i gemelli diversi di Fratelli d'Italia. Due vite parallele, cresciuti entrambi a pane politica nel fronte della gioventù. Cresciuto in una famiglia di sinistra il primo, figlio d'arte il secondo. Tutti e due accomunati dall'essere riusciti a conquistare la cieca fiducia di Giorgia Meloni. Io mi sono vestito da Minni una volta a Carnevale, vuol dire che sono Minni? No! Ho scoperto che lo chiamavano Satanello, però poi io pensavo lui si arrabbiasse. No. Il contraddittorio era facile, perché era il mio attuale coinquilino che è Minni, Donzelli. Minni è un grande fumetto, Minni è Satanello. Minni è Satanello. Sono i due scudieri di Giorgia Meloni, Del Mastro spedito in via Renula a contenere il turbo garantismo del guardasigilli Carlo Nordio. A Donzelli invece Giorgia Meloni consegna le chiavi del partito e un posto nella commissione parlamentare più importante, quella sui servizi segreti. Ma il sodalizio cameratesco tra i due onorevoli coinquilini ora è messo a dura prova dal caso Cospito. Voglio sapere, Presidente, se questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia. In che modo ha avuto accesso Donzelli a queste informazioni? Mi ha fatto delle domande precise. Certo che sì, che mi sembra opportuno. Io non mento e non ometto e quindi rispondo. I rumors raccontano che dopo la bagarre in aula, con tanto di rivelazioni di documenti dell'amministrazione penitenziaria, la premier si è furibonda con i due fedelissimi. E lei, e Donzelli, pensate a dimissioni nei rispettivi ruoli? No, 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 no. Non provateci. Capisco l'innamoramento per Fratelli Italia. Il giochino è quello di provare a dividere la coalizione, ma non ci riuscirete. No, ma noi. Allora.